Montesilvano Regina di Graduatorial, gran completo l'Aquila in out di Marchionni e di Arra, a cui si aggiunge la squalifica di Epifani dalla panca. Primi minuti di gioco confusi in cui le squadre fanno fatica a dare aria e precisione alle manovre. L'Aquila collezione un buon numero di angoli, anche a testimonianza di una indiscutibile superiorità di gioco. I pericoli maggiori rosso-blu li creano soprattutto dai calci da fermo, ma è attorno alla mezz'ora che ha la prima combinazione pulita in area. Santi Rocco tocca per Niccolò Cortic che mette in fondo al sacco per il vantaggio 1-0 in favore della formazione di Epifani. La reazione verde-oro, a dire il vero, lascia a desiderare ed è frutto più di estemporaneità che di coralità con Mastro Girolamo, di fatto mai chiamato in causa. E così, poco prima dello scadere, bella incursione sul lato mancino che porta a liberare il rasoterro di scimia. Lacunoso però in potenza e precisione. Un minuto di recupero e passa così la prima fazione in archivio. In apertura di ripreso, subito al primo minuto, possibilità per gli ospiti. La fretta e l'imperizia di Alessandro, non giovano alla causa. Limitazione al quinto dei verde-oro con Barbarossa e da prassi. Epifani è squalificato, dicevamo, Dora Sante, così manda sulla scena ad Ercole per preservare il già ammonito Sarrizzo. Pregevole e travolgente, minuto 12, l'imbastimento rosso-blu, così irresistibile che il piede del malcapitato Alessandroni butta la sfera nella propria porta. 2-0, l'Aquila è risultato anestetizzato. Al ventitresimo, gli ospiti in cattedra. Bravo, Mastro Girolamo a stregare. Dercole, mentre sulla ribattuta di quest'ultimo, Scimia manda sull'esterno del sacco la palla del possibile 3-0. Poco prima del termine è Carbonelli che prova a centrare il Triss. Il suo tiro, per la verità, è sporcato. Sbarba il legno. Petito va giù in area al quarantatresimo e prova a reclamare la massima punizione. L'arbitro lascia correre, ma di lì a poco, 5 minuti di overtime e poi il triplice fischio che chiude la contesa. Montesilvano, buono nello spirito e nella lotta. Troppo innocuo e rinucitario nell'offesa. La gara operaia, ma straordinariamente efficace per la squadra del presidente Di Giovanni, che riprende la rincorsa alla vetta. Fermatasi tre turni or sono. Mister, una vittoria che non è stata mai in discussione. Beh, sì, abbiamo legittimato, insomma, non subendo niente in fase difensiva. Anzi, potevamo addirittura rendere un po' più largo il risultato sul finale. Tutto qua. La gara operaia, però, questa è la strada, no? Sì, noi sappiamo dentro il nostro spogliatoio che possiamo far meglio di quello che abbiamo fatto anche oggi. Lo sappiamo, sappiamo tutti, i ragazzi lo sanno, dobbiamo lavorare per rendere ancora più tranquille le domeniche a noi, ma ai tifosi e a tutti quanti. Si offende se le dico che è un po' emozionato per aver sostituito Epifani? Ma io ho fatto tante partite, insomma, però ovviamente mi dà un grande piacere allenare l'Aquila, questo sì. Allora, mister, sicuramente non è mancato lo spirito, sicuramente non è mancata la lotta, però un po' innocua. Cos'è mancato rispetto alle precedenti partite oggi? Come ti devo rispondere? Come vuole. Allora, io gioco una partita con una squadra 250.000 volte più forte di me, se gioco una partita e tu mi ammunisci due giocatori dopo tre minuti al primo fallo e io ce lo scorro perché lo scouting ha preso lo scorro, il giocatore loro, il numero quattro, ha fatto nove falli su nove ripartenze, non prendo un'ammunizione, tu a me mi hai condizionato due giocatori, fermo restando che loro sono stati superiori perché sono più forti. Non è che mettiamo in dubbio che noi dobbiamo vingere con l'Aquila, ci mancherebbe. Però, qualcosa di una recriminare io ce l'ho perché se tu dopo tre minuti vieni prevenuto e mi ammunisci un giocatore, dopo sulla palla sopra il calcio d'angolo me ne ammunisci un altro e ripeto, il numero quattro loro da scorro perché me l'hanno letto adesso, fa nove falli e non prendo un'ammunizione, io mi arrabbio. Quindi gara condizionata insomma, prestazione del Montesilvano che è stata un po' condizionata dall'arbitro. No, loro avrebbero vinto lo stesso, però mi dà il rammarico che tu mi condizioni la partita dopo cinque minuti, poi la partita io la perdo lo stesso perché sono più forti loro, non posso dire niente io. Dubitabilmente. Due tiri in porta e una parata del portiere, poi non è che hanno fatto più di tanto. Noi non l'abbiamo tirato mai, loro hanno fatto due tiri in porta e una parata del portiere, quindi non è che hanno fatto tutta chissà che cosa, però sono più forti e perdere con l'Aquila per noi ci sta. Stiamo restando che io sto arrabbiato.